Salve a tutti ex, bevuti in questo nuovo video, non c'è sonno. Allora, oggi è il 25, se vedete qui di cercare bene, sì. È Natale, e a Natale si dorme di più. Ma in realtà non è così perché non ho dormito niente. Allora, vi auguro un buon Natale a tutti. E soprattutto vi invito a guardare tutti i video, a partire dal primo all'ultimo. Commentatevi, iscrivetevi, condivideteli. E anche per questo video ho la mia faccia da morto. Sono sveglio da 10 minuti. E vi devo confessare una cosa. Allora, io ho una fobia per i cani. Che non è, diciamo, una fobia... Cioè, prima era più forte, era un pochino male. Non sono a casa mia, sono a casa di mia cognata. Mi ha cognata un cane. E diciamo che il mio risveglio è stato con l'entrata del cane in stanza io che saltavo in aria. Quindi, oltre al fatto che ho dormito poco. Quindi, ho la faccia da morto. Capellina monzio. Cioè, più per il fatto che mi sono sbagliato saltando in aria. Con questo non lo so. Mi sto riguardando anche la faccia da morto. Ok, va bene. Allora, chiudo. Vi auguro a tutti un buon Natale. E niente. E al più presto, nuovi video sul canale. Quando potrò li caricherò. E niente. Cioè, i amonti. Ciao.